Controordine al contrordine, camerati e qualche compagno. Il sindaco Gianni Rotice, che doveva cadere e poi non era caduto più, ora è definitivamente caduto e Manfredonia tornerà alle urne nella prossima primavera per eleggere sindaco e consiglio comunale. Come si ricorderà, circa un mese fa 14 consiglieri, uno in più del necessario, si erano presentati da un notaio per rassegnare contemporaneamente le dimissioni e provocare la conclusione anticipata della consigliatura e la caduta di Rotice. Ma poi, colpo di scena, contrordine, camerati e qualche compagno, il consiglio non si sciolse più perché due consiglieri ci avevano ripensato ritirando le proprie firme. I dimissionari erano pertanto diventati dodici, insufficienti allo scopo. A depositare le firme erano stati, oltre ai consiglieri di opposizione, anche uno del gruppo misto e quattro di Forza Italia, partito di maggioranza a causa del forte conflitto tra il sindaco e l'onorevole Gian Diego Gatta, uomo forte a Manfredonia dell'intero centrodestra. Ad averci ripensato, il consiglieri Carbone, eletto con Fratelli d'Italia e passato al gruppo misto, è distaso uno dei quattro di Forza Italia. I maligni dicono per pressioni e promesse, loro per il solito stucchevole bene della città che in queste situazioni forse preferirebbe gli si volesse male, anzi pur di liberarsi di loro molto male. Fatto sa che Rotice era restato in sella con una maggioranza incerta e indebolita alla ricerca di nuove sponde che nonostante i suoi appelli non ci sono state. Ieri l'atto conclusivo sono tornati dal notaio i nove consiglieri di minoranza, più i tre di Forza Italia passati all'opposizione, più Sara Dellerose, eletta con la civica Io Voto Gianni, che ora sarebbe il caso cambiasse il nome in Io Non Voto Gianni o Io Gianni Non Lo Voto Più. 13 firme consegnate a un notaio addirittura di Borgo Celano e protocollate al comune in fretta e furia per evitare ogni rischio di una farsesca ripetizione di quanto avvenuto un mese fa. Insomma, quasi un blitz. Rotice era stato eletto alla guida di un'amministrazione di centrodestra subentrando alla gestione commissariale insediata sia a seguito dello scioglimento di quella precedente per infiltrazioni mafiose. Prima di lui, dall'introduzione dell'elezione diretta del sindaco, c'erano state solo amministrazioni di centrosinistra. La sua vittoria, salutata come una svolta epocale, ha però dato vita a una gestione molto criticata non solo dalle opposizioni ma anche dalla sua stessa maggioranza, come dimostra la devastante conclusione di un'esperienza per molti da dimenticare.